Alla fine siamo giunti al fatidico momento, siamo quasi a meno di 6 days out al Misti Olimpia 2021, quindi questa sarà la mia probabile top 10 di questo Misti Olimpia. Alla fine purtroppo non parteciperanno Vladislav Suhoruczko, l'atleta ucraino e purtroppo anche Nathan Diasch, quindi ho un po' cambiato la mia top 10 in questo ultimo giorno. Al decimo posto metto James Olimpia, devo dire che ho rivalutato notevolmente James in queste ultime settimane, non è un atleta che mi fa impazzire per quanto riguarda il fisico, non è il più bello da vedere, però devo dire che dalle foto che ho visto ultimamente, devo dire che James è granitico, è in una forma fantastica ma veramente incredibile, l'ho visto migliorato, lo vedo migliorato anche nella schiena da quello che ho potuto vedere dalle foto, vedremo come si presenterà sul palco. Penso che sarà uno degli atleti che presenterà una delle durezze muscolari migliori, penso che James abbia una durezza muscolare che al momento è unica, ce ne sono veramente pochi con la durezza muscolare e la condizione che porta James e penso che questa cosa gioverà a suo favore. Al nonno posto metto con molte incertezze Rolly Winkler, sappiamo che questa non è la migliore delle annate per Rolly Winkler, in due gare che ha fatto è arrivato in una quinto, in una seconda, però comunque è riuscito a qualificarsi al misto Olimpia, ha saltato l'Arnold per appunto concentrarsi solo sull'Olimpia, ripeto che non è il migliore anno per Rolly, è molto ridimensionato rispetto agli anni precedenti. Per il momento lo metto al nono posto ma probabilmente potrà anche arrivare in qualche posizione più alta, bisognerà vedere che pacchetto e che condizione porterà all'Olimpia. Se dovesse portare il pacchetto che ha portato alla Chicago Pro non lo vedo appunto nei migliori 8, mentre se dovesse portare il pacchetto che ha portato all'Oro Pro o addirittura migliore potrebbe fare molto bene in questo misto Olimpia. Al ottavo posto anche qui con molte incertezze metto Akin Williams, prima che gareggiasse all'Arnold l'avevo messo nella mia top 5 al misto Olimpia, ma vedendo la sua ultima apparizione la settimana scorsa all'Arnold Classic devo dire che Akin è un po' off per quanto riguarda la condizione. Io spero che riuscirà a portare una condizione migliore di quella che ha portato all'Arnold, se dovesse essere così Akin secondo me rientrerà nella top 5, quindi nei migliori 5, ma se non dovesse trovare la condizione appunto non lo vedo come uno che potrebbe rientrare nei migliori 5. Però Akin è un atleta che ha delle masse che nessuno ha in questo Olimpia, è un atleta unico nel suo genere, è veramente incredibile, pecca però in condizione e spero che all'Olimpia potrà trovare la condizione che aveva portato al Misti Olimpia 2020, appunto che lieva sul sesto posto. Al settimo posto metto Ian Valliere che sta facendo una stagione veramente fantastica, ha vinto due Pro Show, ha vinto il Tampa Pro, il Texas Pro ed è arrivato addirittura secondo all'anno Classic 2021. In entrambe le gare Ian ha portato una condizione incredibile, penso che all'Arnold la condizione sia addirittura migliore, sia stata addirittura il migliore del Misti Olimpia 2020 in cui abbiamo visto un Ian squartato, praticamente era senza pelle. Appunto il punto forte di Ian in questo momento è la condizione, fa buoni piazzamenti perché arriva in gara con la condizione migliore di tutti. Penso anche che a questo Olimpia porterà una condizione buona come quella che ha portato all'Arnold e al Texas. Non è l'attleta più bella da vedere però è quella con la condizione migliore e i dettagli e sa anche molto bene proporre le pose. Come proprio nelle pose come per esempio il side chest o il side tricep lo ripaga molto, però io al momento lo metto al settimo posto. Al sesto posto metto Hunter Labrada che quindi secondo me potrebbe battere il suo rivale che è Ian Valliere. Se vi ricordate l'anno scorso Hunter ha battuto Ian al Tampa Pro, invece al Misti Olimpia del 2020 Ian ha battuto Hunter. Secondo me è stato così perché Hunter non era una buona condizione, infatti la condizione che ha portato Hunter all'Olimpia era off, era molto spento. Però il pacchetto che ha portato al Chicago Pro qualche mese fa è stato veramente incredibile. Se dovesse portare lo stesso pacchetto o addirittura migliore, penso che Hunter rientrerà nella top 6. È un atleta che a me piace un sacco, è giovanissimo, ha solo 29 anni ed è già al suo secondo Olimpia, ha già vinto due pro show, quindi un atleta con un potenziale veramente incredibile. Al quinto posto ci avrei dovuto mettere Nathan Diascia ma che purtroppo non parteciperà, quindi al quinto posto metto William Bonnack. Anche qui con molte incertezze, purtroppo non l'abbiamo visto ancora gareggiare in questo 2021, doveva fare l'Arno Classic ma non è riuscito a entrare negli Stati Uniti. Al momento sembrerebbe essere entrato negli USA però c'è sempre quel dubbio che rimane un po' nell'aria. Comunque secondo me William non è più un atleta che potrebbe rientrare nella top 3. Secondo me abbiamo già visto poi il miglior William Bonnack, tra l'altro ho visto anche da uno suo recente guest posing di circa 3 settimane fa che presenta anche una ginecomastia piuttosto evidente, quindi una cosa non bella da far vedere su un palco. Come ho detto molte volte a me William Bonnack non è un atleta che mi fa impazzire, non è il mio preferito. Però comunque negli anni ha fatto sempre buoni piazzamenti, ha vinto due Arno Classic e di volta secondo l'Olympia nel 2019, però al momento non lo vedo come uno che potrebbe rientrare nelle migliori 3 per quest'anno. Perché penso che ci siano atleti migliori di lui e che fanno parte della nuova generazione. Al quarto posto metto Brandon Curry, il misto Olimpia del 2019. Penso che Brandon quest'anno non potrà riconquistare il titolo che ha perso l'anno scorso contro Big Rami, l'anno scorso è arrivato secondo. Anche se alle finali era stato messo come terzo perché ADC aveva migliorato la sua condizione, quindi era migliore di Brandon. Però fatto sta che comunque non credo che potrà conquistare il suo titolo, non credo che potrà migliorare di molto il suo punto carente, ovvero le gambe. Sappiamo che ha una carenza nelle gambe e anche un po' di definizione. Secondo me c'è un atleta in particolare che potrà battere Brandon e questo atleta è Nick Walker. L'ho rivolutato moltissimo, ma veramente molto dopo l'Arnold. Nick Walker secondo me quest'anno farà molto bene l'Olimpia, arriverà al terzo posto, più di così non penso che potrà lottare per il titolo come lo stesso richiara, oppure arrivare in top 2, però penso che arriva al terzo o quarto. Bisognerà vedere il confronto tra lui e Brandon Curry perché sono due tipi di fisici completamente diversi. Brandon è molto più estetico, ha una struttura migliore, una vita molto stretta. Invece Nick Walker è un carro armato di muscoli con una condizione impeccabile, quindi due tipi di fisici completamente diversi. Io onestamente penso che Nick potrebbe battere Brandon, perché a differenza di Brandon ha le gambe e ha anche la condizione. Poi però bisognerà vedere sul palco come si presenteranno entrambi. Bisognerà anche vedere come sceglieranno i giudici i loro posizionamenti. Comunque fatto sta che penso che Nick quest'anno potrà arrivare in top 3, ma non penso che potrà lottare per il titolo. Invece uno che penso che lotterà per il titolo al 100% è Adi Chupan. Secondo me quest'anno vedremo il miglior Adi Chupan di sempre. Adi Chupan che non abbiamo ancora visto, oppure che abbiamo visto al Vancouver Pro del 2019, in cui ha portato un pacchetto fantastico, se dovesse portare il pacchetto che ha portato al Vancouver Pro, o addirittura migliore, penso che potrebbe addirittura battere rami. Sappiamo che è arrivato negli USA all'incirca 4 settimane fa ormai, quindi non ha più il problema dello smaltimento dei liquidi, come l'anno scorso, che era arrivato un giorno prima della gara, quindi aveva ancora addosso molti liquidi dovuti al viaggio dall'Iran all'USA. Quest'anno non ha più questo problema, quindi penso che abbia fatto la fase finale della preparazione in totale tranquillità, senza stress, e quindi penso che questa cosa la si vedrà molto sopparco e penso che vedremo il miglior Adi Chupan di sempre, che potrebbe addirittura battere rami. E infine ovviamente non poteva mancare lui il campione in carica Mahmood Hells by Big Rami, il campione in carica che quindi lotterà per il titolo e proverà a conquistare il titolo di Mr. Limpia per la seconda volta consecutiva, al momento Rami ovviamente è il favorito essendo il campione in carica, però penso che dovrà stare molto, ma molto, ma molto, ma molto attento ad Adi quest'anno e negli anni successivi, e negli anni successivi dovrà stare attento anche a Nick Walker. Comunque vedremo se la fine Big Rami riconquisterà il titolo per la seconda volta, vedremo se Winter is Coming, come il suo motto, Winter is Coming, tratto da una serie tv, non so quale serie tv sia, io non guardo molte serie tv, anzi non le guardo per niente, comunque non lo so, comunque fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere chi secondo voi triunferà a questo Mr. Limpia 2021, se sarà Rami o se avremo un nuovo Mr. Limpia, fatemi sapere anche la vostra top 10 perché sono molto curioso, se non siete iscritti iscrivetevi, domani farò anche la mia top 6 al Mr. Limpia del Classic Physique e il giorno dopo farò anche la mia top 6 del 2.12, quindi sarà un Mr. Limpia veramente fantastico, noi ci vediamo nel prossimo video, hello guys!